Investire in NFT e comprendere come potrebbe essere messo a reddito uno specifico NFT che appartiene a un settore emergente che è quello del play to earn, ossia dei blockchain game che consentono di essere remunerati interagendo con lo scenario tra virgolette di gioco utilizzando il proprio avatar che è rappresentato in questo caso dall'NFT partiamo per fare un esempio pratico con denaro reale da The Heist che è tradotto dall'inglese la rapina rappresenta in questo momento una delle principali NFT collection inside dentro a Magic Eden ovviamente ambiente solana come potete vedere quasi 12.000 pezzi appartengono a questa collezione con un floor tutto sommato modesto quindi 10-11 a solana niente di che 200-200 dollari la finalità di questa collezione non è Tukur all'aspetto cosiddetto scimmiesco che ha l'NFT che come potete vedere ha una sua, anche in questo caso ha specificità per le caratteristiche distintive anche grafiche e artistiche che ha l'avatar ma l'utilizzo che se ne può fare e nello specifico andiamo partanto a vedere che cos'è The Heist The Heist è un blockchain game come abbiamo menzionato prima che consente di mandare in missione il proprio NFT che è rappresentato da un avatar, dalle sembianze scimmiesche in quattro scenari di gioco ogni scenario di gioco ha delle casistiche di successo per quanto concerne la remunerazione rapportate alla tipologia stessa dell'NFT quindi più è raro il vostro NFT in 3D ranking più potrebbe essere in grado di ottenere ricompense le ricompense vengono generate a fronte di una lottery ossia una lotteria andiamo nel caso pratico e proviamo a comprenderlo perché c'è anche un aspetto significativo che caratterizza anche altri blockchain game che è la possibilità di perdere tutto perdere tutto significa sostenere la distruzione del proprio NFT come abbiamo detto quattro ambienti di gioco da un quattro scenari di gioco la Federal Reserve, City Bank, Downtown e la stazione di benzina ora il de-heist è concepito perché abbiamo due fazioni che si scontrano tra di loro da una parte le scimmie che sono i rapinatori che vanno in quattro scenari di gioco diversi la stazione di benzina, i bassi fondi, la banca e poi la banca di riserva federale e dall'altra parte Gorilla che invece attuano come poliziotti e pertanto vanno ad arrestare le scimmie quindi sono due modalità di reward differenti le scimmie che otterranno una reward da quello che riusciranno a rubare ovviamente l'attività di furto è generata da un algoritmo che valuta il vostro avatar il vostro NFT e attraverso una lotteria stabilisce chi percepisce la ricompensa e così via la stessa cosa anche per quanto riguarda vedete le scimmie ad esempio Downtown quindi i bassi fondi ci ritroviamo con in questo momento 330 poliziotti Gorilla e 2913 scimmie che stanno tentando di effettuare dei furti dove in Downtown io come ho fatto a mandare in missione il mio NFT attraverso il tool qui che viene richiamato in ogni scenario di gioco in cui caricate attraverso il vostro Solana Wallet in questo caso Phantom Wallet il vostro NFT lo mandate in missione mandarlo in missione significa siglare e firmare una transazione sulla blockchain di Solana ogni qualvolta si fanno queste operazioni ora l'aspetto più importante da comprendere è che i quattro scenari di gioco i quattro scenari in cui si mandano in missione qualora avete una scimmia quell'NFT che è meno costoso all'interno della collezione come price floor potete scegliere dove mandarlo in missione ad esempio lo scenario che ha il rischio più contenuto o se non altro pari a zero è quello della gas station in cui come potete vedere la missione dura generalmente 8 ore quindi ogni 8 ore il vostro NFT viene liberato e voi dovete decidere dove rimandarlo in missione in questo momento abbiamo circa 1144 NFT che dovrebbero rappresentare non è detto 1144 giocatori perché uno potrebbe giocare anche con più NFT mandarli con un unico address su più scenari di gioco la remunerazione in questo caso per quanto riguarda la gas station è rapportata come potete vedere alle caratteristiche che ha il vostro specifico NFT quindi se è un leggendario se è un epico se è un raro se è un poco comune se è un comune la probabilità di guadagnare i bonus sotto forma di banana nanas è rapportata a questo tipo di specificità se vado su downtown come potete notare il rischio cambia già diverso e diventa già e già comincia a salire e qua sulla vostra destra potete notare quelli che sono i rischi che il vostro NFT può andare incontro innanzitutto vi faccio notare che il RECT cioè la possibilità di perdere il tuo NFT è pari allo 0% con questo scenario di gioco poi potete rischiare di essere arrestati ovviamente tutto lo fa l'algoritmo di gioco che ponderà il ranking del vostro NFT con le ricompense che sino ad oggi avete maturato più poi tutta una serie di altre casistiche vedete a seconda di quanti nana rewards che già avete incamerato con le precedenti sessioni di gioco avete più opportunità di ottenerne delle altre passiamo adesso al secondo scenario di gioco Citibank anche in questo caso qui vedete abbiamo tutto sommato un livello di rischio contenuto basso e le 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 rewards sono anche per questo motivo contenute faccio ancora notare che RECT è pari a 0% quindi in questo scenario di gioco non c'è la possibilità di perdere il proprio NFT passiamo poi alla Federal Reserve il quarto scenario e questo come potete vedere vi mette in evidenza rischio elevatissimo il ciclo di gioco è di ogni quattro ogni quattro ore in questo momento sono in in missione 1990 chimps scimmie e ci sono circa 476 gorilla che fungono da poliziotti attenzione RECT 0.02% cosa significa significa che chi sceglie questo scenario di gioco potrebbe incappare qualora venga ad esempio arrestato o subisca venga coinvolto in una sparatoria potrebbe andare incontro all'NFT burning quindi voi letteralmente morite all'interno del blockchain game e la vostra morte corrisponde al burning dell'NFT ovviamente qui il rischio essendo più elevato presuppone anche una redditività molto più elevata delle varie emissioni andando avanti per capire ulteriore caratteristiche qui all'interno sempre del hub hub del gioco viene linkato il vostro address viene indicato il vostro avatar quelle che sono le caratteristiche distintive ma anche soprattutto quelli che sono i ranking cosa vuol dire quelli che sono i ranking quelli che per tutto quello che hanno fatto in precedenza si trovano in questo momento ad avere molta più opportunità di ricevere rewards dalle varie emissioni lo ricordo ancora per chi non lo avesse compreso non si tratta di fare niente cioè fa tutto il blockchain game che rapporta la profittabilità del vostro NFT sulle caratteristiche distintive le caratteristiche distintive sono la rarità all'interno della collezione e poi tutti i vari collectibles cioè altre caratteristiche che potete aggiungere al vostro NFT che potete comprare sul mercato e ne aumentano la funzionalità ma soprattutto la capacità di ottenere maggior risultato anche in questo caso vedete ve ne rendete conto quasi tutti i blockchain game hanno una propria un proprio utility token che in questo caso qua si chiama NANA da BANANA ossia si riceve la remunerazione delle proprie missioni in relazione a questa specifica utility token in seno alla blockchain di Solana che poi può essere utilizzata in due varianti la prima il withdrawal fare cash withdrawal in questo caso quando si arriva a 10.000 NANA si possono prelevare come potete vedere io in questo momento tra virgolette sto mandando in missione l'avatar da due o tre giorni sono a 1624 NANA quando arriverò a 10.000 valuterò se ritirarli oppure reinvestirli per aumentare la profittabilità dell'NFT che ovviamente se utilizzo queste rewards per aumentare le caratteristiche distintive dell'NFT ad esempio mettendoci un certo tipo di occhiali mettendogli un cappellino e così via tutto quello che è anche in questo caso disponibile sotto forma di cosmetics all'interno del market del gioco aumento il valore dell'NFT quindi da qui a magari qualche mese o qualche anno se sono andato avanti con questo tipo di interazione ho avuto l'opportunità di aumentarne il valore per tanto casciare che ne so la mia posizione ovviamente qui stiamo parlando di un singolo e solo NFT di circa 150 200 dollari non è che cambi più di tanto il valore magari fra qualche mese o qualche anno il tutto potrebbe raddoppiare triplicare e così via faccio notare e questo è molto interessante proprio per le caratteristiche distintive del gioco che oggi total death one cosa vuol dire qualcuno che è stato mandato in missione o che ha scelto di mandare in missione il proprio avatar il proprio NFT il proprio avatar su ad esempio la federal reserve lo scenario della federal reserve che ha un rischio elevatissimo è andato incontro a purtroppo la percentuale di perdita e di burning quindi in questo caso ci troviamo con un address un giocatore che ha perso il proprio NFT che ovviamente ha voluto rischiare sapendo la probabilità di elevata remunerazione e la lottery del del e la lottery del blockchain game è andato a pescarlo quindi è interessante come attività per comprendere come può variare il valore di un NFT nel tempo in rapporto a determinati utilizzi in questo caso l'utilità di questo NFT è strettamente collegata a quella di utilizzo all'interno dello specifico blockchain game che consente il play to earn quindi se decido di andare a utilizzarlo per partecipare alle varie lottery che vengono concepite in 4 diversi scenari di gioco come potete vedere la missione attuale medium risk di 4 ore mancano ancora 2 ore 18 minuti ha generato circa 54 banana li avrò questi 54 banana quando terminerà effettivamente il ciclo di gioco delle successive due ore perché nel frattempo potrei andare incontro come potete vedere a un processo di confisca essere arrestato quindi avere ad esempio il proprio il proprio NFT che viene messo in freeze per che ne so 24 ore quindi non può non può operare non può essere mandato in missione o qualcosa di assimilare è molto interessante proprio perché noterete che ci sono delle varianti del gioco che rappresentano le varie modalità con cui potete partecipare a seconda se scegliete di essere un chimps una scimmia oppure un gorilla e come potete notare sono quasi sempre 1 a 10 proprio come all'interno della NFT collection infatti le scimmie i chimps costano particolarmente poco circa 10 solane in questo momento i gorilla hanno invece un prezzo molto più elevato proprio perché la loro remunerazione in questo caso per quanto concerne i gorilla cambia in quanto vengono remunerati a seconda di quanti rapinatori scimmieschi fermano arrestano e così via discorrendo o in tali unicasi arrivano nel caso ci fosse ad esempio una sparatoria simulata nello scenario della Citibank producono la distruzione dell'NFT dell'altro giocatore che diventa una reward totale per il gorilla che ha effettuato questo tipo di operazione in definitiva per chiudere e far comprendere le caratteristiche di gioco ma soprattutto come i blockchain game e all'interno di specifiche NFT collection non si deve esclusivamente guardare il lato cosiddetto artistico ma spesso l'utilità che può generare staking a rewards perché è di questo che si sta parlando ossia utilizzare l'NFT per determinati programmi in finanza decentralizzata che generano una qualche remunerazione questa remunerazione può essere statica o in tali casi dinamica come in questo caso e la dinamicità della remunerazione è correlata alle caratteristiche distintive specifiche del proprio avatar iniziale del proprio NFT che con il tempo può aumentare o diminuire a seconda di quello che andremo ad aggiungerci andiamo ad aggiungerlo un po' come avviene anche in altri ambienti di play to earn tipo star atlas in cui abbiamo adesso una prima un primo scenario cosiddetto di gioco o di interazione statica si mettono le navicelle all'interno di determinate faction fleet più avanti sappiamo che gli NFT possono essere messi a rischio in questo caso le navicelle spaziali se vengono mandati in missione in scenari di gioco in cui il giocatore ossia il proprietario dell'NFT è consapevole che lì la remunerazione sarà più elevata però se qualcosa va male o l'NFT viene danneggiato o peggio come in questo caso qua Rekt perde totalmente il suo valore e l'NFT viene barnato faremo nelle prossime episodi ulteriori casistiche in cui è possibile comprendere le funzioni all'interno anche di altri blockchain game che sono correlati ovviamente a NFT collection inside a Solana e qui capite per quale motivo è importante sviluppare determinate applicazioni in blockchain i cui gas siano irrisori o sostanzialmente impercettibili perché ogni interazione che fate nell'ambiente di gioco rappresenta una scrittura che deve essere fatta a un chain ad esempio quando viene mandata in missione una chimps o si va a riscattare una reward quella è un'interazione con la blockchain in questo caso di Solana che ovviamente presuppone gasp che nello specifico sono irrisorie in background ulteriori elementi di approfondimento per comprendere il concetto di utilità a rarità all'interno di una NFT collection l'iscrizione di è un'interno